rieccoci amici con la seconda parte del video riguardante appunto la camera andiamo subito 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 a cominciare con le pulizie preparatevi prendete un bel pacco di popcorn perché sarà un video lunghissimo comunque andremo insieme a pulire a fondo a fondo a fondo la camera fare qualche modifica e poi vedrete un pochettino come si evolverà la situazione e 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 vorremmo un pochino andare a vedere come poter fare per sostituirli o comunque sia eliminare questo vetro che ha sopra perché come vedete collegato sopra e sotto cercare di eliminarlo e non sostituire l'anta perché purtroppo non riusciamo a trovare le dimensioni giuste dell'anta ma sostituire l'anta dovremo andare a sostituire poi tutte le altre ante quindi non è il caso però almeno vorremmo cercare di modificare questa cosa degli specchi perché purtroppo questi specchi pesano tantissimo e l'anta sta un pochino come vedete sta un po' cedendo non so se si riesce a capire ma purtroppo l'anta sta cedendo quindi vorremmo cercare di alleggerirlo al più possibile e o cercare delle nuove cerniere o comunque sia proprio togliere il vetro e cercare di fare qualcosa all'esterno comunque questa è una cosa in stand by però un'altra cosa che volevo fare è come vedete questa è la diciamo è una specie di commo specchiera toilet un po' di tutto non era originariamente fatta in questo modo ma io sono andata a costruirla così in quanto questi qua originariamente erano i comodini che però sono uguali agli altri solo che i comodini avevano in dotazione anche questi qua perché la specchiera perché la testiera del letto era fatta con la radio dietro la testiera non so se li avete mai viste comunque questi in teoria erano i comodini ed erano fatti da due cassetti e questo cassettino attaccato che non si potevano modificare quindi io cosa ho fatto quella che originariamente era la toilette era composta da diciamo questo pezzo di mobile fatto da due cassetti due cassetti qua due cassetti qua io sono andata a prendere il pezzo di sotto della toilette e metterla come comodino e i comodini che sono questi qua praticamente li ho messi sotto la toilette così ho sollevato un pochettino la toilette e ho ricavato molto più spazio perché non volevo eliminare nessun cassetto in quanto qua forse non ve l'ho mai fatto vedere ma sono andata a mettere tutte tutti i miei trucchi diciamo e quindi qua ho tutte le cose suddivise ed è proprio la toilette in cui mi trucco qua ho preso uno sgabellino dove arrivo seduta a vedermi allo specchio e mi trucco qua comunque tutto questo per dirvi che la toilette aveva anche questa vetrinetta dove come avete visto io vado a mettere i profumi che utilizziamo io e Andrea e poi diciamo i miei gioielli un pochettino più importanti tanto in casa si spera non entri nessuno quindi ce li ho sempre lì l'unica pecca è che questa vetrinetta ha praticamente il fondo molto molto scuro quindi col vetro chiuso non si vede mai cosa c'è dentro quindi io cosa vorrei andare a fare ho preso per applicarlo sul fondo uno di quei praticamente di quei quei fogli plastificati che vanno a diciamo a copertura e vorrei provare a ritagliarlo a misura e andare a metterlo qua ora vi faccio vedere anche il rotolo che ho preso proprio per fare questo lavoro e con molta pazienza dovrei andare a prendere bene le misure e cercare di applicarlo dritto anche perché questa è messa in piedi non è una cosa su chi posso fare non è una cosa che posso fare poggiata su un piano ma vedremo come come esce vi faccio vedere il rotolo e poi prendo le misure allora il rotolo che ho preso è questo qua non so se si capisce un pochino il disegno ma ha degli arabeschi e ha uno sfondo tipo un argento chiarissimo un azzurrino comunque ha tutti questi disegni bellissimi e come l'ho visto ho detto sì questo fa esattamente per quello che devo andare a fare io scusatemi la luce ma questa camera è talmente buia che anche con la luce accesa non si vede niente a breve penso che arriverà una novità e quindi riusciremo a risolvere questa situazione comunque il rotolo è fatto così è un rotolo che ho preso da un cinese ecco qua dice proprio carta da apparati ed è un 2 metri per 2 metri per 45 allora non ci sta proprio esattamente la perfezione come vedete dovrò andare a tagliarne un pezzo ma prenderò bene le misure e vedremo di cercare di fare un lavoro abbastanza buono speriamo a presto Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti.